Comandante al timone! Più veloci! Spiegare le vele! Spiegare le vele! Dobbiamo raccogliere i materiali, comandante! Sì, non a nemmun stasi! Alcinevi, non a nemmun stasi! Poi i rotami potrebbero portare in giro! Ariforime, la psilaterna! Ariforime, la psilaterna! Preparate i revi! Eccola! Brucchiamo scontro! Portate i revi! Ho perso un paio di bravi uomini contro quei pirati! I mari sono più pericolosi ora che Sparta e Atene sono ai ferri corti! Ci servono nuove reclute per migliorare la ciurma! So da dove iniziare! Il migliore arciere che conosca sarà una risorsa preziosa! Quando lo incontriamo? Beh... Dovrai persuaderlo! Che intendi dire? Portalo a bordo e ci penso io a convincerlo! Qualche dracma potrebbe aiutare! Quindi vuoi che lo metta fuori combattimento? No, no! Beh, forse potresti calmarlo un po'. Poi portalo sulla nave, così posso fare due chiacchiere con lui! Andrà tutto bene, garantito! Sì! 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 Il comandante lascia il timore. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.